Parliamo del concerto di Natale, ci spiega come si svolge la serata? Certamente, innanzitutto voglio ringraziare la Presidente della Fondazione Gabriella Saracco che come ogni anno, a parte la pausa forzata dello scorso anno che ci ha impedito di mettere in scena questo evento, ci ospita insieme al Comune di Ciroecchia, al Sindaco tedesco che ringraziamo dell'ospitalità. Ci esibiremo con un concerto, un concerto del complesso strumentale, ma quest'anno abbiamo arricchito inserendo anche un giovane gruppo di archi che sono in via di formazione, ma sono già a un buonissimo livello e ci teniamo a far vedere, soprattutto anche per dare loro uno stimolo in più e farsi conoscere. Quindi ci esibiamo con queste nostre due formazioni. In più, siccome l'Associazione Musicale di Allumiere è un istituto musicale in cui insegniamo musica, abbiamo anche 20 classi di strumento. Questa sera del 22 dicembre parteciperà la classe di canto leggero. Le musiche natalizie quindi saranno arricchite anche dai canti di questi ragazzi. Inoltre ci siamo rapportati anche con le realtà di Civitavecchia, quindi c'è il coro della Filarmonica di Civitavecchia che supporterà la serata insieme a noi. Il concerto è un concerto che nasce nel passato. C'era Rossano Cardinali, questa volta lui non sarà sul palco, ma sicuramente alleggerà ovunque nella sala del Teatro Traiano. Un Teatro Traiano che, devo dire, quest'anno si sta riempendo a dismisura. Siamo veramente in difficoltà per poter accogliere tutti coloro che desiderano partecipare. Insieme al Sindaco tedesco, come sempre, intendiamo dare alla nostra città, e non solo perché saranno presenti da tutto il territorio della Fondazione, intendiamo dare questo momento di speranza, un Natale diverso che ci auguriamo si possa dimenticare nel futuro. Devo dire che questa iniziativa si inserisce anche in un complesso di iniziative che l'amministrazione comunale ha voluto mettere in atto. una serie di iniziative che, a mio avviso, stanno dando una sensazione e stanno riportando in città quello che è lo spirito del Natale. Io mi auguro che possa essere un grande successo, una festa per tutti quanti, e andiamo avanti sempre più convinti che la ripresa è vicina. Grazie.